Sono ancora in fase di stallo i lavori per la bonifica delle aree ex 2A e 2B del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. A distanza di dieci mesi dall'aggiudicazione delle opere, infatti la ditta incaricata a Decdeme non ha ancora firmato il contratto. A mettere in luce questa situazione in conferenza stampa il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che sul punto aveva presentato un accesso agli atti indirizzato alla MIT, il Ministero Infrastrutture e Trasporti. Da un accesso agli atti che abbiamo fatto il Ministero ci ha risposto il 16 di giugno dicendo candidamente che non è stato ancora sottoscritto il contratto per la bonifica delle aree ex 2A e ex 2B di Bussi. Si scontra fortemente con gli annunci trionfali del Presidente Marsilio e anche di Giorgia Meloni che dicevano che dal 1 ottobre del 2022 sarebbe iniziata la bonifica. In realtà così non è, addirittura doveva terminare entro il 2024. Oggi scopriamo che il contratto non è stato sottoscritto da Decdeme e che non sono state presentate neanche le garanzie fidevissorie. Va detto che una volta sottoscritto il contratto serve un nuovo piano di caratterizzazione e poi serve un nuovo progetto esecutivo. Quindi parliamo di un anno, un anno e mezzo ancora di tempo. Siamo diciamo a un ritardo enorme di cui chiediamo conto naturalmente a Fratelli d'Italia che governa la regione e la nostra nazione perché al di là degli annunci si trovi definitivamente una soluzione. Blasioli poi chiede anche chiarimenti alla provincia di Pescara sulla decisione di destinare 3 milioni di euro di risarcimento arrivati da Edison a una scuola di Pescara, il Marconi. Le scuole sono tutte quante da finanziare, ci mancherebbe. Ma come mai destinare questi fondi a Pescara piuttosto che ai comuni che sono stati coinvolti dall'inquinamento, come è stata determinata la cifra dei 3 milioni di euro e come mai dal 2018, da quando la provincia aveva deciso di procedere con un'azione civile nei confronti di Edison, al 2023 non si è fatto assolutamente nulla dal punto di vista giudiziario. Assieme ad Antonio Blasioli in conferenza stampa c'era anche Giuseppe De Dominicis, già presidente della provincia di Pescara. De Dominicis oltre a ribadire i tempi lunghi che si prospettano per la bonifica dei siti ex 2A e 2B, ha messo in luce la differenza sostanziale con quello che sta accadendo su un altro sito inquinato dell'area di bussi sul Tirino, ossia la ex discarica Tremonti. Siamo in un ritardo enorme perché pur dopo la stipula del contratto i tempi sarebbero ancora più lunghi perché bisognerebbe fare la caratterizzazione delle aree, cioè capire cosa c'è sotto, l'Arta ce l'ha dimostrato qualche settimana fa, fare un progetto esecutivo, farlo vidimare, insomma stiamo parlando dai tempi necessari dalla stipula del contratto fino all'inizio di eventuali lavori, sui quali io sono scettico, stiamo parlando di tempi che si aggirano intorno all'anno e mezzo, quindi molto molto in ritardo. Rispetto alla discarica di Tremonti, che è un'altra discarica sotto i piloni dell'autostrada, dove i lavori stanno andando speditamente, anche perché forse in quel caso i lavori li ha eseguiti la Edison che è stata responsabile di quell'inquinamento e quindi noi abbiamo sempre sostenuto che la responsabilità e i soldi per risanare quel territorio dovevano essere messi non dal pubblico ma da chi ha inquinato, in questo caso la Edison. Grazie a tutti.